FANTASTICI ATROLENTI FANTASTICI ATROLENTI Siamo anche che le prime tricocchie classificate dell'anno 21 entreranno a far parte del Club Azur. Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti Signorini un forte applauso a Benvenuto, grazie a tutti Centro Vista, grazie Centro Vista, tutti insieme Vogliamo sentire il nostro pubblico 3, 2, 1, via! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti